signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale ultimo appuntamento per quest'anno con la rubrica estiva del modellismo col master kai questo appuntamento sarà più corto perché oramai abbiamo finito di parlare di tutto quello di cui dovremmo parlare quest'anno nella scorsa puntata abbiamo realizzato il ponte e le scale i primi elementi scenici un attimo più complessi se vi siete persi il video ve lo lascio come sempre qua sopra questa settimana andremo a vedere un paio di tecniche di pittura anche queste relativamente più complesse di quelle che abbiamo utilizzato finora ma facilmente realizzabili da chiunque per le scale ci servirà acqua e poi un marrone e un giallo da mischiare assieme cominciamo dando un fondo marrone uniforme di base su tutta la superficie del parquet molto spesso il marrone non è un colore così coprente quindi probabilmente vi servirà dare due mani l'importante durante questo passaggio e che siate sicuri di colorare gli spazi che rimangono tra un asse di legno e l'altro questo in realtà il marrone scuro ci servirà principalmente per definire quegli spazi una volta che avete dato la tonalità di marrone uniforme su tutte le scale mescolate un po del marrone che avete usato con il giallo in questo caso ho usato un giallo ocra per schiarirlo potreste anche usare il bianco ma da un effetto che tende un po tanto al rosa non è un effetto veramente legno qua bisogna usare una tecnica non è proprio una tecnica di pennello secco ma ci si avvicina non caricate troppo il pennello di vernice dopo che avete preso la vernice piuttosto scaricate il pennello pulendolo su un pezzo di carta ma anche sul bordo della tavoletta e quando date il colore cercate di dare le pennellate sempre in direzione opposta a quella delle assi di legno in questo modo gli darete un aspetto un attimo più organico un attimo più naturale questo è sempre visto nell'ottica di fare un lavoro veloce poi se dovete dare effettivamente un effetto legno è molto più complesso e questa tecnica non è sufficiente però per quello che dobbiamo fare per ora può anche bastare fate la stessa cosa da tutti i pezzi e così è come rimane il lavoro finito probabilmente vi sembrerà che sono troppo gialli troppo hanno un colore troppo chiaro in effetti è vero ma per lo risolveremo nel prossimo passaggio a questo punto dobbiamo creare un protettivo vi servirà un bicchiere con dell'acqua con la vinilica da mischiare con l'acqua qua abbondate pure e del colore in questo caso io ho usato il nero perché servirà un tono per scurire il tutto ovviamente il nero mischiandosi con il bianco del vinavil darà come risultato un colore grigio considerate che se dovete dare un colore al vostro protettivo c'è sempre il vinavil che è bianco che dovete considerare quindi o se volete dare un colore scuro dovete usare molta vernice comunque mischiate tutto assieme alla fine otterrete una sorta di pappetta densa che sembra acqua sporca perché in effetti è quello che è e a questo punto con un pennello possibilmente un pennello vecchio che poi dovete buttare comunque usate solo per questo tipo di lavori ricoprite tutta la superficie dei pezzi sia la parte di polistirolo sia la parte del parquet questo perché il vinavil che è mischiato con il colore asciugandosi formerà una sorta di strato protettivo che impedirà al polistirolo di squamarsi o di deformarsi questo l'avevamo già visto in un video precedente potenzialmente dopo aver fatto questo genere i lavori potreste anche dipingere il polistirolo a bomboletta perché il vinavil asciugandosi formalmente fondamentalmente formerà un velo protettivo sopra il pezzo il motivo però per cui abbiamo messo il grigio all'interno del composto è perché contemporaneamente a proteggere il polistirolo useremo questa sostanza per dare una sfumatura lucida al legno che lo renda più simile al parquet il vinavil quando si asciuga non solo forma uno strato protettivo ma rimane anche vagamente lucido e questo renderà lucida qualsiasi superficie su cui lo date dato che il legno rimaneva fin troppo chiaro e lo stacco tra il marrone e i pezzi gialli fin troppo evidenti dato che la sostanza fondamentalmente ha un fondo grigio il grigio smolzerà il tono delle asse di legno e fonderà tra di loro i colori e fondamentalmente con un solo passaggio è come se dessimo sia il protettivo che l'inchiostro sopra il pezzo quando la mistura il vinavil e le vernici si sarà asciugata controllate che effettivamente la parte in legno sia abbastanza lucida se no dovete dargli un'altra mano aspettate anche che si sia asciugato completamente il polistirolo in modo che sia protetto e adesso possiamo passare a dipingerlo utilizzando anche in questo caso una tecnica particolare adesso che il protettivo si è asciugato in realtà io ho aspettato una giornata per essere sicuro possiamo dipingere la parte che dovrà risultare in pietra nessuna tecnica strusa ho semplicemente dato un fondo di acrilico nero qui assicuratevi di riempire bene gli spazi tra una casella e l'altra e una volta che avrete dato tutto il fondo nero fondamentalmente tempo che avrete finito di dipingere l'ultimo pezzo probabilmente il primo pezzo si c'era già asciugato ho mischiato nero e bianco per ottenere un grigio e poi anche in questo caso con una tecnica relativamente simile al pennello secco cioè scaricando la maggior parte le vernici e mantenendo una mano molto leggera ho dipinto la superficie di tutte le pietre in modo che il grigio rimanesse in superficie ma tra una pietra e l'altra rimanesse il bordo nero che faccia lo stacco qua a seconda di che effetto volete fare potreste dare anche poi una terza mano a pennello secco vero e proprio di bianco per mettere in risalto i bordi delle singole pietre io non l'ho fatto perché mi sembrava eccessivo e il risultato era già fondamentalmente abbastanza evidente già così come restava e questo è come rimane tutto il nostro ponte una volta dipinto che può essere usato come un ponte come una piattaforma ralzata come delle scale che salgono e scendono e modulare e offre grande varietà di usi che poi è esattamente lo scopo che devono avere questi pezzi più usi hanno meglio è e anche per quest'estate finisce la serie del modellismo col master cae io probabilmente in questo momento starò già lavorando al video di settembre anche se non so ancora qual è come sempre ringrazio a tutti quelli che hanno messo like che hanno commentato con la serie del modellismo ci rivedremo l'estate prossima a meno che non succeda qualcosa durante l'anno comunque come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le nuove notifiche io sono il master cae e noi ci vediamo a settembre con la serie regolare del canale